per spiegarvi cos'è my hunter potremo dire cercando di giocare di metafora che my hunter è una sorta di racconto dell'orrore no? come se aveste voi tra le mani una corda e quindi la tirereste a ritroso senza sapere cosa c'è dall'altro capo della corda stessa essendo un thriller atipico un thriller soprattutto psicologico c'è l'assenza di tutta una serie di scene anche violente ma scene anche con un minimo d'azione all'inizio all'inizio e